Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale. Tra le auto leggendarie è tornata questa bellissima CLK della Mercedes Auto del gruppo 2. Sono poche le auto di questo gruppo, quindi appena ne arriva una, la compro. Cosa facciamo oggi? Setup da 800pp e la portiamo in Sardegna per cercare di almeno recuperare i soldi spesi per l'acquisto, perché costa abbastanza. Prima di vedere dove comprarla, il setup e tutto il resto, se volete supportare i contenuti che porto, iscriviti al canale e lasciate un mi piace. L'auto, come detto, è una leggendarie, la trovate qui nelle leggendarie. Se, quando guarderete il video, l'auto non sarà a disposizione, non preoccupatevi perché tornano a rotazione. Non le compro tutte, ovviamente. Vedere un'auto del genere, bellissima, storica, quello che volete, 20 milioni. Mi sembra troppo. Questa, di nuovo, 18 milioni. La CLK LM del 98 costa 6 milioni e mezzo. È già parecchio per quanto spenda io. Comunque, un'auto del gruppo 2 arriva con 831pp. Io l'ho comprata una volta, non la compro due volte. Auto acquistata. Andiamo a vedere nel... Ho messo una livrea in onore della vittoria che si è fatta Alemanza, non sbaglio. Comunque andiamo a vedere nella parte del messa a punto cosa acquistare. Certe cose arrivano di base, ma vi faccio vedere tutto quello che vi serve. Limitatore potenza e zavorra, sì, perché ci lavoriamo un po' insieme. Computer personalizzabile. Se non c'è, non mi ricordo se arriva già con l'auto, ma comunque i pezzi che vi servono sono questi. Io ho preso anche il turbocompressore a medi-regimi. LSD personalizzabile. Marmitte da corsa. Freni da corsa. Sospensioni personalizzabile. Controle del freno. E rapporto marcio da corsa personalizzabile. Comprate le dure, perché arriva con le medie. Le dure, ovviamente, durano di più. E farete meno sostre. Su estremo, niente. La gara è in Sardegna, ovviamente. 800pp la porto lì. Questa qui. 15 giri. Impostazioni auto. Vediamo nel dettaglio le impostazioni che sto usando al momento. Tra una pace e l'altra hanno sistemato il calcolo di PP, quindi probabilmente se l'avevate prima adesso non vi funziona più. Comunque, gomme da corsa. Dure. Settaggi per ora o questi dovrebbero funzionare sulla parte delle sospensioni. LSD, come vedete qui. Qui a destra, medi-regimi, tubo-compressore. Resto non ho toccato niente. Dietro la webcam c'è normale come kit angolo sterzata. Aerodinamica l'ho modificata mettendo al minimo l'anteriore e al massimo il posteriore. Sono sceso a 78 di potenza nel motore. A Zavorra 58 kg. Tutti sull'anteriore e il limitatore lo ha scelto a 100. Siamo comunque con 666 cavalli. Le impostazioni originali sono queste. Da 831pp siamo scelti, abbiamo alzato un po' di cavalli. Peso maggiore, il bilanciamento dei freni è un po' cambiato. Vedete i dati lì. Siamo un po' più lenti, nonostante i cavalli siano aumentati, ma avendo Zavorra il limitatore di potenza è l'unica per poter entrare qua. Tutto pronto? Io mi butto in pista. Farò due chiacchiere all'inizio per spiegare la strategia, poi vediamo al fondo se ce l'ho fatta veramente. Ok, ci siamo. Visto che non ho molta particolità con l'auto, io mi butto un TCS1 per ora, poi magari cambiamo. Potenza motore 1 per ora. Comunque questa è un gruppo 2, quindi frena veramente in maniera potente, molto più forte delle gruppo 3, è ovvio. Comunque guardate la benzina presente, voglio fare almeno 8 giri, quindi in questo primo giro devo mantenermi intorno agli 8 giri. Faccio un po' di short shifting per preservarla, visto che voglio farla tutta con la mappatura 1. Ovviamente c'è anche traffico qua, se non riusciamo a superare, vedete Wilk che ci dà fastidio all'inizio. Comunque facendo short shifting, vedete che la benzina resta sempre intorno agli 8 giri di benzina sufficiente. Qua si può frenare abbastanza tardi. Sì, sì, molto di più. Ma devo solo abituarmi un attimo senza fare questi lunghi. Strategia, guardate le gomme. Dovrebbe essere sufficiente la sola sosta, come ormai cerco di fare qui in Sardegna, alla fine dell'ottavo giro. Perché la benzina mi sta reggendo. Ho tirato un po' qui, c'è un bel blocchetto di auto da far fuori. Questi mi danno fastidio in fase di ingresso, ma si scontano tra di loro. Apriamo il gas e ci speriamo tutti. Guardate con che facilità. Abbiamo 7 giri di residui di benzina, quindi finora ha funzionato. Potrei staccare veramente tardi. Non mi toccare, Gallo. Ha consumato tantissimo nel rettilineo dell'arrivo. Perché qua ovviamente abbiamo già 6 giri e 9 residui. Quindi è un gioco di strategia su... Uh, lunghi? Un po', sì. Un gioco di strategia su... Non mi toccate. Un gioco di strategia sulla... Sulla benzina residua. Ma facendo uno short shifting nemmeno troppo... Esagerato... Non dovresti avere problemi. Quasi a metà del giri motore. Se cambiate... Siete tranquilli. Comunque fin qua ci siamo. Ci siamo. Vediamo se... Arrivo all'ottavo, come promesso. Mamma mia, che traiettoria che devo fare per evitarli. Comunque sì. Ci rivediamo un attimo alla sosta dei box. Fraga va già al terzo giro ai box. Lui qui facciamo il giro. Uno a 38 e o e 6. Si può ancora scendere. Portiglia va ai box. Anche lui è vero che va al quarto. Mi sono dimenticato. Siamo praticamente secondi. Terzi. Come 37 e 6 si può ancora scendere. Nonostante un piccolo lungo sulla penultima curva che mi fa perdere 4 secondi, siamo primi all'inizio del sesto giro. Bisogna sfruttare un po' meglio lo short shifting perché sto rischiando, ma già facciamo di rimanere senza benza. Arrivano i primi doppiati, già qui all'ottavo giro. E qua facciamo la sosta. Abbiamo 0,7 di benzina, quindi gestito bene. Ovviamente facendo così ho rallentato un po' in qualche giro, ma... Cambio gomme, situazione ottimale. Facciamo il pieno così tiriamo un po' di più, anche se restiamo un secondo... Vediamo quanto dura il rifornimento. Siamo sempre lenti qua nei box. Sempre lenti. Arriva la macchinina. Cambio gomme. 4 secondi. Poi parte il pieno. La differenza... Quanta percentuale c'è lì? 20 quasi. Un paio di secondi tutti. 1, 2, quasi 3 secondi. Persi, ma... A me non posso tirare. Ho solo 7 giri da fare e abbiamo... 8 giri e 4 di benzina. Siamo primi perché si è fermato anche... Portiglia. Mendoza arriva adesso dietro. Ragazzi, strategia super easy. Sta pista ormai... La conoscete meglio di casa vostra. Record 1,37,1. Con un po' di doppiati in mezzo, quindi... Come ha detto, guidando bene... Appena parlo, peggioro. Comunque, guidando bene qua si scende... A meno io. 1,36 qualcosa riesco a farlo. Qualcuno di voi ancora meno. Levati. Se mi perdo il giro veloce per colpa sua. Doppiati, ragazzi. Sono quel che sono. Abbiamo due giri. Ho tirato un po' troppo. Sì. Ho fatto un bel tempo, ma adesso devo tirare un po' meno. Parte l'ultimo giro. Ho fatto tanto shot shifting qua per evitare... Di arrivare tiratissimo. Perché appena fate... Un paio di giri spinti... Ovviamente... Brucia tanta benzina. E poi c'è il rischio. Anche con mappatura 1. Soprattutto con mappatura 1. Di non finire la gara. Comunque, strategia super semplice, ragazzi. Infatti, mappatura 1. Io ho usato il TCS a 1. All'ottavo giro. Ormai qua me le baso tutte più o meno su quella... In quella maniera. Fare la prima... Il primo stinto un po' più lungo. 8 giri. Poi il successivo da 7. Benzina, mappatura 1. Guardate, chiudete... Fate il pieno, ovviamente. Così spingete un po' di più nella seconda parte. E lasciate gli altri a un minuto e dieci circa di ritardo. Non so che posizione fossero questi qui davanti, ma... Era galo, quindi l'ottavo. Andate a recuperarli. Potevano superare anche sto blocchetto. Comunque, almeno fino ai primi 5. Dal quinto in poi, scusate, doppiate tutti. Vediamo quanto è impiegato. 25 minuti e 23. Una ventiana in secondi potevo... 20 magari sono troppi. 10 secondi potevo tirarli sicuramente giù. Con qualche doppiaggio, un paio di lunghi. Se potete rischiare con una mappatura 2, magari spingerò un po' più le marce, ma questo sta a voi. Con la bellissima tuta del PRT, in vista qui alla vittoria, vi saluto. 727, li recuperiamo. Con 10 gare, ragazzi, siamo in profitto. Però la macchina è bellissima. La volevo, l'altra volta non ce l'ho fatta prenderla. Adesso avevo qualche milione da poter spendere. Grazie ancora per aver visto il video. Spero vi sia piaciuto. E ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie a tutti.